Musica Monsignor Calogero Marino, attuale vicario generale, eletto vescovo di Savona Noli, l'ordinazione è il prossimo 17 dicembre in cattedrale a Chiavari. Commozione e gratitudine nella cura di Chiavari dopo l'annuncio della nomina episcopale di Monsignor Marino, il vescovo Tanasini ha sottolineato il prezioso aiuto datogli in 12 anni. Una chiesa aperta ed accogliente vuole essere questo il frutto della veglia missionaria diocesana in programma sabato nella nuova chiesa di Sant'Anna a Rapallo. Cambia il sistema di raccolta differenziata dai rifiuti in centro storico a Chiavari, dal prossimo anno i sacchetti saranno conferiti in apposite postazioni. Portare l'allegria nei luoghi di sofferenza, la clown terapia arriva nel reparto di pediatria, nell'RSA, nei reparti di cura intermedia e di medicina riabilitativa, previsti corsi di formazione. La lettera che mi ha mandato in data 17 ottobre il nunzio apostolico in Italia, Monsignor Adriano Bernardini. Eccellenza reverendissima, mi recuo a doverosa premura di comunicare a vostra eccellenza che il Santo Padre ha nominato il reverendo Monsignor Carogero Marino, del clero della diocesi di Chiavari, attualmente vicario generale, nuovo vescovo di Savona Noli. Buongiorno a tutti e ben arrivati al TG13, abbiamo ascoltato, riascoltato le parole di Monsignor Alberto Tanasini pronunciate questa mattina in Curia a Chiavari alle ore 12 e in contemporanea l'annuncio è stato dato anche nella diocesi di Savona Noli. Monsignor Carogero Marino, attuale vicario generale della diocesi di Chiavari, è stato eletto vescovo di Savona Noli. L'annuncio è stato trasmesso in diretta da Telepace. Monsignor Carogero Marino è nato a Brescia il 26 marzo del 1955, è arrivato a Chiavari accompagnato dai genitori, un mix di sangue lombardo e siciliano, per frequentare gli studi nel liceo classico del Pino, conseguendo la maturità e successivamente laureandosi in giurisprudenza all'Università di Genova. Stiamo vedendo il momento dell'annuncio della nomina a vescovo di Savona Noli in Curia, la presenza dei direttori degli uffici di Curia e di altri collaboratori. Il vescovo ha sottolineato l'importanza dell'operato di Monsignor Geroma Marino, che gli è stato al fianco in questi 12 anni, con mozione nelle parole del Vicario Generale della Diocesi, che ha ricordato le persone che gli sono state vicine in tutti questi anni. Abbiamo registrato subito dopo questo momento una breve intervista proprio con l'eletto vescovo di Savona Noli, Monsignor Geroma Marino. Sentiamo. Come ricevi questo incarico? Ma lo ricevo con, direi con sufficiente pace. Ho saputo di questa cosa, mi pare, giovedì scorso, una settimana fa. E devo dire, anche se appunto, una settimana, dieci giorni fa, devo dire una cosa bella che dicevo al vescovo, che in questa notte ho dormito bene, non ho avuto problemi di sonno notturno, questo sì. Mi sembra che voglia dire di una certa serenità, di un certo abbandono al Signore, lo dicevo prima, se c'è una convinzione profondissima che ho è quella di essere molto amato dal Signore, molto custodito dalla sua paternità, dalla sua tenerezza. E quindi mi metto nelle mani di Dio. Ecco. Ci tengo anche a dire che sono, l'ho scritto, perché ho scritto una piccola lettera per la Diocesi di Savona, ci tengo anche a dire che vado contento a Savona, e che sono contento di andare lì. Conosce già un po' questa realtà? Sì, è una chiesa che conosco abbastanza bene, direi che dopo la Diocesi di Chiavari, quella di Savona è quella che conosco meglio, conosco tanti preti, un po' di laici, un po' di religiosi, quindi vado in una realtà abbastanza conosciuta. Tra l'altro appunto la missione interdiocesana a Cuba, Chiavari e Savona sono legate, sono legate per il seminario, quindi sono contento di andare a Savona. Quello che mi fa dolore, lo dico in modo molto sincero, è la fatica di lasciare, poi anche se cerco di non farmene accorgere, in realtà mi affeziono abbastanza. Sei parecchi anni che comunque sei a Maria Madre. Lasciare, sì, è il dolore di lasciare Maria Madre, ormai era a 19 anni, quindi è chiaro che era bene anche per loro che me ne andassi, però il dolore di lasciare c'è tutto, e lasciare proprio i volti, le persone, i cammini. Se posso dire una piccola cosa che faccia sorridere, in questi due o tre giorni mi sono molto impegnato a far partire dei cammini. Hai voluto rendere grazie, hai chiesto perdono e la preghiera. Sì, ecco, queste tre cose che se vuoi sono molto semplici, molto ovvie, ma sono l'uniche cose che sento profonde adesso. Ecco, la gratitudine è molto grande al Signore, alle persone amate, a chi mi ha accompagnato, la richiesta di perdono, perché appunto sono una persona complicata, anche se qualcuno dice di no, e poi so di sbagliare tante volte, quindi, e certe volte anche involontariamente si può ferire. Questa è una cosa importante. E poi sì, la richiesta di essere custodita, accompagnata nella preghiera. Monsignor Gero Marino è stato ordinato sacerdoti il 30 maggio del 1982 da Monsignor Daniele Ferrari. Al fianco dei Vescovi ha svolto diversi incarichi, è stato segretario particolare di Monsignor Daniele Ferrari dal 1985 al 1995. In carico quello di segretario, carico aperto anche con il successore di Monsignor Daniele Ferrari, ovvero Monsignor Alberto Maria Careggio, dal 1995 al 1997. Dal 1999 al 2002 è stata assistente spirituale dell'Istituto Secolare delle Missionarie della Regalità di Nostra Signora di Gesù Cristo. Dal 2003 al 2005 è rettore del seminario diocesano. Come anticipato, è stato per 12 anni vicario generale della diocesi al fianco di Monsignor Alberto Tanasini. Un ruolo questo che ha ricoperto con particolari vicinanze amicizie con il nostro Vescovo, un'amicizia che è stata sottolineata proprio da Monsignor Tanasini nell'intervento successivo all'annuncio delle lezioni. Allora ascoltiamo anche l'intervista realizzata proprio con il nostro Vescovo. Un altro pezzo significativo della diocesi viene donato alla Chiesa. Il Papa continua a chiedere alla diocesi di Chiave. Hai detto bene. La gioia sta nel donare. Donare una persona preparata, capace, con lo spirito giusto. Mi auguro anche che la collaborazione al Ministero Episcopale di questi anni, gli giovi per portare alla diocesi di Savonanoli, alla quale vogliamo bene, tutto quanto egli può dare, tutto quello che gli è necessario e quindi da questo punto di vista potremmo essere contenti di avere offerto una persona in grado davvero di aiutare il cammino di una Chiesa. Monsignor Gero Marino adesso prenderà servizio in una diocesi impegnativa e chiamata da un lavoro molto importante. Sì, le difficoltà ci possono essere, ma non vorrei che fossero enfatizzate più di quelle che devono essere pesate. A volte, nella dinamica delle notizie si enfatizzano degli aspetti, non si colgono altri, quindi è difficile vedere tutto il bene, il lavoro che è stato fatto, l'impegno dei sacerdoti, che io conosco abbastanza bene e anche Monsignor Gero lo conosce, perché proprio l'anno scorso ha predicato gli esercizi ai preti di Savona e quindi ha avuto anche questo contatto, non solo questo contatto. Quindi io penso che non dobbiamo insistere sulle difficoltà, ma guardare piuttosto a tutto ciò che di bene c'è e ce n'è tanto. Sono stati numerosissimi gli incarichi ricoperti in questi anni di Ministero Pastorale nella nostra diocesi da Monsignor Gero Marino, come ricordava lui stesso, dal 1997 è stato parroco di Maria Madre della Chiesa, incarico che ricopre tuttora, assistente diocesane regionale di azione cattolica, vicario giudiziario diocesane e presso il Tribunale Ecclesiastico regionale Ligure. Da 12 anni vicario generale della diocesi, moderatore della Curia, direttore spirituale del seminario di Chiavari, delegato vescovile per il diaconato permanente, membro della commissione diocesana per l'evangelizzazione e la catechesi, delegato vescovile per l'ecumenismo, è stato inoltre docente di teologia morale e di diritto canonico all'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Chiavari e insegnante di religione al Liceo Marconi di Chiavari. L'ordinazione episcopale di Monsignor Gero Marino avverrà in cattedrale a Chiavari sabato 17 dicembre 2016. Tra le tanti impegni sottolineati da Monsignor Gero Marino come abbiamo ascoltato anche nell'intervista un impegno particolare tenuto a cuore per la nostra diocese è quello missionario. La nostra diocese si appresta proprio a vivere in questi giorni la veglia missionaria. Quest'anno al centro della serata ci sarà l'altro, lo straniero che vive in mezzo a noi. Previste testimonianze di persone provenienti da altri paesi che vivono da tempo nel comprensorio. La veglia si terrà sabato 22 alle ore 21 nella nuova chiesa di Sant'Anna a Rapallo. Una chiesa aperta e accogliente vuole essere questo il frutto della veglia diocesana di sabato nella nuova chiesa di Sant'Anna a Rapallo. La traccia della serata sarà l'invito del Papa ad essere missionari seguendo l'agire di Dio che ha offerto a tutti la sua misericordia. Un atteggiamento che oggi può essere compiuto senza per forza dover partire verso luoghi lontani. Oggi come oggi la missione l'abbiamo in casa quindi dobbiamo lasciarci interpellare da tutte quelle persone che sono chiamati poco a poco a diventare i nostri fratelli in un cammino di fraternità. La veglia 2016 è stata così impostata mettendo al centro l'altro con la sua storia la sua cultura le sue paure un tentativo per abbattere quel muro di diffidenza verso lo straniero che è in mezzo a noi. La veglia inizierà con questo ascolto del Vangelo subito dopo alcune testimonianze di persone che di altre culture vivono nel nostro territorio quindi ci sarà una testimonianza di una persona dello Sri Lanka per raccontare il perché è venuto da noi perché la comunità si è radicata nel nostro territorio ci sarà una persona della comunità filippina che racconterà anche lei la sua storia e dirà le motivazioni che l'hanno portata a radicarsi qui in mezzo a noi ci saranno un gruppo di ragazzi che faranno una testimonianza breve sulla loro esperienza missionaria Cuba quest'estate ci sarà anche una testimonianza registrata di padre Ibrahim di Aleppo sappiamo la difficile situazione in Siria e vogliamo sentirci particolarmente vicini alla comunità siriana che vive questi momenti terribili di dolore e di guerra il vescovo farà sintesi delle testimonianze e concluderà la serata con una parola che potrà diventare cammino per la diocesi le notizie di cronaca la finanza ha sequestrato in porto a Genova alcuni container carichi di giocattoli non conformi agli standard di sicurezza imposte dalla legge nazionale ed europee si tratta di 16.500 articoli pupazzetti girandole gadget vari prive di l'indicazione di provenienza e garanzia sull'etichetta importati da paesi orientali e pronti all'immissione sul mercato italiano i finanzieri hanno segnalato il caso alla camera di commercio di Genova che ha respinto le opposizioni delle società importatrici e ha applicato le sanzioni previste dal decreto legislativo sulla sicurezza dei giocattoli cambia il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti in centro storico a Chiavari le novità che interessa il tratto di via Martiri della Liberazione e via Entella entrerà in vigore all'inizio del 2017 ma sarà già introdotta accanto al vecchio modo di raccolta dal 5 di dicembre sentiamo i particolari dall'assessore al ciclo dei rifiuti Daniela Colombo ci sono delle modifiche che riguardano una raccolta differenziata il porta a porta nel centro storico che cosa? Sì il centro storico ha un'estetica da rispettare il nostro salotto buono andava conservato mantenuto e fatto sempre più bello quindi insomma questa cosa di vedere i sacchetti in giro durante tutto il giorno non ci piaceva abbiamo deciso di creare delle stazioni immobili di conferimento presidiate per cui ci sarà un operatore che tutte le mattine dalle 6 e mezza alle 10 e mezza raccoglierà i rifiuti sia dei residenti che dei commercianti per cui non ci saranno più sacchetti in giro dalle 10 e mezza del mattino fino a mai più perché in realtà i sacchetti uno se li deve portare nelle zone che abbiamo scelto In che zone sono state dislocate queste isole? Sono 5 zone una partendo dal Carugio lato Zoagli diciamo all'angolo tra via Paolo Costa e Viconetto una in rimarrà comunque quella del palazzo comunale una sull'angolo tra Piazza Verdi e Vico dei Gandolfi una viene sull'angolo dalla piscina quindi tra Largo Pessagno e Vientella in fondo è Vientella sull'angolo con via Marsala il cittadino dovrà andare lì con il proprio rifiuto di quel giorno sono di solito due rifiuti quasi sempre la plastica più oggi c'è il giorno del secco conferisce al nostro operatore il rifiuto per cui sarà anche un sistema di controllo più capillare perché sarà impossibile conferire un rifiuto sbagliato i negozianti comunque sono coinvolti anche in questo processo rimarrà la raccolta della carta nella raccolta speciale che facciamo per i commercianti dalle 12.30 alle 15.30 e loro si adegueranno agli orari perché non ci sarà più differenza tra commercio e residente i comuni azionisti di minoranza dell'azienda di trasporti pubblici ATP chiedono un piano industriale chiaro che possa dare certezza ai lavoratori a tutti gli utenti del territorio la posizione unanime di Chiavari Lavagna Sestri Levante Rapallo e Santa Margherita Ligure è stata espressa nel corso di un incontro in comune a Chiavari convocato per analizzare i problemi finanziari dell'azienda di trasporti provinciali i rappresentanti dei 5 comuni si sono dichiarati disposti a prorogare i termini nel debito redimibile fissati al 31 dicembre 2016 tali decisioni dovranno comunque essere sottoposte al voto dei rispettivi consigli comunali portare l'allegria nei luoghi di sofferenza è la missione dei clown che richiede disponibilità e preparazione per questo l'associazione Viviamo in Positivo Camugi organizza un corso in programma all'inizio di dicembre chi fosse interessato può prendere contatto via mail all'indirizzo vipcamugi chiocciola gmail.com domani sera alle 20.30 a Rapallo ci sarà un incontro introduttivo nel locale della parrocchia di Sant'Anna in via Mameli 316 sentiamo l'associazione dei volontari del clown ha appena siglato una convenzione con la ASLE 4 che cosa prevede? si è un sogno che coltivavamo da tanto tempo portare la clown terapia nei reparti ospedalieri anche del Levante Ligure in questo momento la convenzione prevede che i nostri volontari possano accedere ai reparti della RSA di Chiavari e poi la pediatria di Lavagna che è piccola ma è il posto forse dove i clown possono avere più successo con i bimbi dove ce li immaginiamo e poi abbiamo la convenzione con cure intermedie e medicina riabilitativa che cos'è la clown terapia e a che cosa serve? beh a portare un momento di sollievo e di positività laddove c'è dolore o disagio fisico o anche sociale a volte basta una piccola magia una battuta un peluche le bolle di sapone e immediatamente il morale si solleva noi andremo anche nelle scuole proprio per portare ai ragazzi questo messaggio propositivo di poter cambiare le cose e ribaltarle guardarle con l'occhio del clown che è sempre un occhio divertito e pronto a percepire il bello delle cose anche nei momenti difficili il personale deve essere preparato non soltanto dal punto di vista tecnico ma anche umano forse psicologico si assolutamente infatti è previsto una formazione continua per i nostri volontari che appunto si occupa anche della parte umana perché rimanere a contatto con la sofferenza è difficile da mandare giù e quindi servono dei corsi apposta proprio per capire come fare a superare questi momenti insieme quanti sono attualmente i vostri volontari che vestono i panni del clown? allora in questo momento siamo pochi perché ci siamo appena fondati ma a dicembre prevediamo di accogliere tra le nostre righe nuovi volontari proprio per questo faremo un corso il 2, 3, 4 dicembre e ora il consueto spazio dedicato alle notizie economiche oggi parliamo del bonus di 500 euro per i diciottenni varato dal governo in attesa che il provvedimento sia sufficientemente ufficialmente attivato i giovani possono compiere le procedure di iscrizione i 500 euro concessi dal governo ai neomaggiorenni potranno essere spesi per l'acquisto di libri visite a mostre musei aree archeologiche biglietti per il cinema fiere concerti e teatro il bonus può essere chiesto anche dai diciottenni stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità per prima cosa i ragazzi devono accedere a Speed il sistema pubblico di identità digitale con cui i cittadini e imprese possono usufruire di tutti i servizi online e delle pubbliche amministrazioni dopodiché registrarsi ad uno dei provider abilitati a scelta tra poste italiane Aruba Team Infocell Sielte registrandosi a Speed e inserendo nome utente e password i ragazzi che hanno diritto al bonus possono visualizzare attraverso il sito web www.18app.it l'offerta culturale messa a disposizione Speed è fruibile da PC tablet e smartphone i giovani potranno consultare gli eventi e le strutture convenzionati e decidere a quali partecipare ad ogni acquisto l'app aggiornerà in automatico il saldo disponibile del bonus fino a esaurimento del denaro gli acquisti avverranno in forma digitale oppure presso negozi fisici mostrando all'esercente il QR encode o il barcode per il ritiro dell'acquisto effettuato sull'app ogni acquisto può essere effettuato solo per una singola unità per cui non sarà possibile ad esempio generare più di un biglietto per lo stesso spettacolo o mostra d'arte per far entrare amici e parenti infine i ragazzi avranno tempo sino al 31 gennaio per registrarsi a Speed e fino al 31 dicembre 2017 per spendere la somma gli esercenti che vorranno convenzionarsi potranno farlo registrandosi sul sito www.18up.it entro il 30 giugno 2017 indicando le categorie di prodotti o i prodotti vendibili nell'esercizio fisico oppure online Il Consiglio Comunale di Rapallo si riunirà questa sera alle 20 i punti all'ordine del giorno sono 12 tra questi la relazione del sindaco sul nuovo progetto della COP le variazioni di bilancio la disciplina urbanistica degli alberghi come di consueto il Consiglio Comunale di Rapallo sarà trasmesso in diretta su Telepacce 2 al canale 85 ora spiegliamo le pagine dei quotidiani insieme a Marco Revello poi tutte le altre notizie Avvenire titola Musul chi può fugge centinaia cercano riparo in Siria prima dello scontro liberati 18 villaggi adesso l'operazione rallenta per i Peshmerga ci vorranno almeno due mesi per prendere il capoluogo i rischi per i civili siamo arrivati su Marte ma ora mancano notizie la sonda Schiapparelli tecnologia italiana a terra sul pianeta e poi avvenire oggi si presenta un'intervista al Presidente della Camera Boldrini caporalato le tutele sono per tutti vediamo all'interno di avvenire la legge punto di partenza dedicata a tutte le braccianti che hanno avuto fiducia in noi è l'inizio di un percorso in cui il Parlamento dovrà fare un monitoraggio e valutare se la norma che abbiamo votato incide effettivamente oppure se sarà necessario portare correttivi dice il Presidente della Camera se accettiamo la corsa a ribasso per i migranti arriverà per gli italiani e poi siamo sul secolo XIX Renzi sfida l'Unione Europea su bilancio ai migranti il Premier attacca la manovra è seria e noi siamo in credito ma l'Europa rinvia lo scontro con Roma fino al referendum e poi la sonda si perde a un soffio da Marti Schiapparelli ammutolisce 50 secondi prima del contatto derubato da settantenni gli portano via la pensione erano in due sono stati arrestati dai carabinieri a Rapallo l'uomo è stato aggredito in un supermercato domani in Liguria sciopero a rischio trasporti elezioni disagi anche negli ospedali all'interno del secolo XIX nel Levante maltempo in 160 con danni alla casa recco il comune stanzia 100.000 euro per i primi interventi tra cui la palestra di via Avastato che vediamo in queste immagini quattro famiglie sono senza alloggio le schede vanno consegnate in municipio per l'eventuale risarcimento però si attende la dichiarazione di stato di calamità naturale da parte del governo e ancora dal secolo XIX di oggi quasi 50 a Rapallo le palme da abbattere per intero in parte ma non si esclude anche di doverle eliminare tutte emergenza Punterolo Rosso si valuta come sostituire le piante infestate e sui quotidiani online sta iniziando tra parole la notizia dell'annuncio del nuovo vescovo di Savonanoli l'annuncio è stato dato in contemporanea a Chiavari e a Savona e sul quotidiano online il vostro giornale di Savona leggiamo appunto il titolo diocesi di Savonanoli nuovo vescovo e Monsignor Carogero Marino l'attuale vicario generale di Chiavari succederà a Monsignor Vittorio Lupi dimessosi per motivi di età lo scorso aprile e poi sotto il curriculum vitae di Monsignor Carogero Marino con la notizia appunto dell'annuncio dato in contemporanea e l'annuncio anche della ordinazione episcopale che avrà il 17 dicembre nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari andiamo ora a vedere se in redazione ci sono altre notizie per noi oggi Maurizio Garreffa sì grazie un saluto a tutti tre notizie di cronaca un albero intanto che è caduto questa mattina su un edificio a Zoagli in via Garibaldi 17 ovvero la strada pedonale che dalla stazione conduce al centro i vigili del fuoco sono intervenuti alle 10 per rimuovere l'albero pericolante e mettere in sicurezza la casa nel condominio ci sono due abitazioni che non sono state evacuate in quanto non si ravvisavano pericoli per le persone l'albero si è riversato sul tetto sulla scalinata sulla facciata e su un ingresso secondario le operazioni di sistemazione sono terminate intorno a mezzogiorno poi la cronaca a due cittadini stranieri i carabinieri di 30 e 56 anni entrambi con precedenti di polizia fermati dai carabinieri di Sesti Levante in centro città sono stati denunciati per aver violato le norme sull'immigrazione e infine la scorsa notte in via Fascia a Moneglia un 32enne di Sesti Levante sorpreso alla guida di un veicolo in evidente stato di alterazione psicofisica oltre a rifiutarsi di sottoporsi agli accertamenti ha tentato la fuga a piedi ma è stato subito bloccato gli è stata ritirata la patente ed è stato denunciato per aver rifiutato di collaborare è tutto la linea allo studio bene grazie ancora una notizia un appuntamento per la nostra diocesi 50 anni fa infatti veniva fondato in diocesi il gruppo diocesano centro volontario della sofferenza a dar vita a questa iniziativa furono Don Antonio Neto e Marieto Sbarbori entrambi figure di riferimento in diocesi e nella comunità di San Salvatore di Cogorno la vita di questi due uomini è stata assegnata profondamente dalla malattia e dalla sofferenza vissuta come dono alle signori e al prossimo l'intuizione di questo nuovo gruppo è proprio questa promuovere la pastorale degli ammalati in modo che ciascuno di loro si senta valore e risorsa per l'altro domenica prossima al villaggio del ragazzo sarà celebrato il cinquantesimo di fondazione alle 16 il vescovo diocesano celebrerà la santa messa per tutti i volontari e per coloro che intendano entrarne a far parte la liturgia si svolgerà nell'aula magna e sarà trasmessa in diretta tv su telepace e siamo così giunti al termine di questa edizione del telegiornale è un'edizione che si è aperta con la notizia dell'ordinazione anzi della nomina a vescovo di Savonanoli di Monsignor Gero Marino trovate tutti gli approfondimenti anche sul nostro sito internet teleradiopace.com l'emittente ha seguito in diretta il momento dell'annuncio e anche l'annuncio della prossima ordinazione episcopale che sarà il 17 dicembre naturalmente anche telepace si unisce al coro di felicitazioni che in questo momento raggiungono Monsignor Gero Marino per questo nuovo incarico grazie a tutti dell'attenzione e buon proseguimento di giornata Monsignor Gero Marino Grazie a tutti